Grazie a tutti, buonasera, grazie all'Italian Insurtech Association e alla Digital Week per questa opportunità. Sicuramente non è la prima volta che ci troviamo e che mi trovo a parlare di diversity nell'ambito dell'insurtech. Di solito in questi casi si tende in qualche modo, si tendono in qualche modo a snocciolare una serie di numeri che soprattutto in termini di gender dovrebbero dare un po' l'idea del gap che c'è ancora in questo paese in termini appunto di diversity. Quindi il numero, non so, delle donne, la percentuale delle donne che sta nei board, piuttosto che il numero delle donne che tornano a lavoro o non tornano dopo una maternità, piuttosto che il numero delle donne che hanno perso il lavoro, sicuramente in questo momento molto difficile di pandemia, tutti i numeri con i quali forse siamo anche abbastanza abituati a confrontarci quotidianamente. La diversity e questi numeri indicano un gap, ci fanno percepire, ci fanno capire un gap che sostanzialmente è proprio un gap culturale, è un gap di mindset, di quel mindset di cui parlava anche Simone precedentemente. Mi piace provare a fare questo breve intervento prendendo il tema come dire da un altro punto di vista, da qualche cosa che fa un po' parte diciamo della cronaca di questi giorni, per dare un po' l'idea di quanto sia ancora grande questo gap e quanto poi certe aziende con un certo tipo di mindset possano contribuire probabilmente a colmarlo. È di, credo ieri o l'altro ieri, la notizia che appunto la regione Lombardia in una serie di follow up che ha fatto su persone che hanno avuto il Covid e ne sono guarite, ha come dire proposto a queste persone un test. All'interno di questo test vi erano delle domande del tipo riesci ancora a lavare e a prenderti cura, a lavare la biancheria per tutta la famiglia oppure ti occupi solo delle cose più semplici e non riesci più a fare le cose come le facevi in precedenza, riesci a cucinare per tutta la tua famiglia eccetera. Tutte queste domande, questo poi ha fatto abbastanza scalpore, l'avrete letto tutti sui giornali, avevano, tra parentesi, per sole donne. Vabbè, direi che, come dire, la notizia parla da sé e si commenta da sé, peraltro è stata anche oggetto, credo, di un caffè di gramellini ieri sul Corriere della Sera, ma evidentemente si commenta da sé. Ma che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che il gap non solo c'è, ma è che è gigantesco. Cioè parliamo della regione Lombardia, non di una piccola azienda che ha fatto una gaffa, parliamo di qualcosa di macroscopico, che ci fa capire quale sia e quanto sia grande il mindset che c'è da cambiare dietro. Questo ha ancora più dei numeri, se vogliamo. Una notizia, prima si citava Rosa Parks, ecco, non voglio, certamente non è nulla di paragonabile a quello, ma se si pensa agli anni che sono passati da allora, effettivamente è una notizia abbastanza sconvolgente, che fa capire quanto grande sia il gap, quanto grande sia il gap in termini di diversity, evidentemente non solo di gender, ma di diversity in gender. Dopo questo esempio un po' negativo, diciamo, mi fa piacere però citarne uno positivo che ho letto ieri per caso, ho trovato ieri, nel quale mi sono imbattuta ieri per caso su LinkedIn. C'era una foto di un ragazzo abbracciato a una signora. Sembrava più una foto da, se vogliamo, da Instagram che da LinkedIn, e quindi mi sono soffermata a leggere che cosa fosse. Il post di questo ragazzo mi ha colpito molto, perché sostanzialmente questo ragazzo diceva, questa è mia madre, la persona nella foto è mia madre, che fa l'impiegata amministrativa e ha perso il lavoro in questo periodo di pandemia. Lei mi ha dato tutto, mi ha permesso di studiare, eccetera, eccetera, mi piacerebbe che qualcuno adesso le desse una mano. E la bacheca di questo ragazzo è stata poi fortunatamente invasa di richieste, di ricevere il CV della madre, eccetera. Questo mi ha fatto pensare a un'altra cosa, che allora ci sono gli uomini e c'è la cultura e forse ci sono le basi per avere un mindset diverso. Il tema è, come dire, riuscire a fare in modo che questo mindset sia, come dire, spalmato ovunque sulla nostra cultura e sulla nostra società. Questo vale per la società. Gli esempi che ho fatto sono del mondo civile, non sono in questo caso del mondo strettamente lavorativo, ma vale anche e vale ancor più all'interno del mondo del lavoro. Vale ancor più all'interno del mondo assicurativo, che è un mondo che si porta dietro un gap storico in termini di diversity, probabilmente rispetto ad altri, e vale ancor più in termini di insurtech, che posso, l'insurtech può anche in questo caso essere un acceleratore non solo di competenze, informazioni, nuovi prodotti, eccetera, eccetera, ma può essere un acceleratore nel far sì che questo nuovo mindset si diffonda all'interno anche del mondo del lavoro e soprattutto all'interno del mondo assicurativo. Questo è uno dei motivi per cui, secondo me, al di là di tutti gli aspetti più tecnici di cui parleremo poi, parlerete poi, parleranno gli altri relatori successivamente, è uno dei temi particolarmente affascinanti e la grande opportunità di questo mondo. Il poter provare, speriamo, il riuscire a colmare questo gap, che appunto non è solo un gap di gender, ma è un gap di età, di provenienza geografica, di mille altre cose, a colmare questo gap, il gap della diversity, con un approccio nuovo, un approccio diverso, lo stesso approccio che l'insurtech porta nel fare le cose, lo può portare anche in questo, e fare le cose in maniera diversa e con un mindset diverso. Perché solo accettando la diversità ed essendo realmente e veramente inclusivi, si può portare ovunque, come dire, l'approccio di quel ragazzo che cercava il lavoro per la persona che aveva consentito a lui di trovarne uno, e si può portare davvero nel mondo del lavoro una diversità, un cambiamento e un'inclusività. solo essere inclusivi ci permette di essere veramente innovativi, veramente insurtech e veramente distintivi. Vi ringrazio e lascio la parola ai successivi relatori. Grazie mille. Grazie mille. Grazie.